Mercoledì 25 ottobre si è riunito il Consiglio Comunale di Tolentino. In apertura di seduta il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha presentato il nuovo segretario generale Paolo Cristiano. Subito dopo è stato proiettato un filmato che ha documentato gli atti di vandalismo all'ex centrale del Ponte. Sempre il sindaco ha risposto all'interrogazione presentata dai consiglieri Mercorelli e Cicconetti avente per argomento gli interventi post sisma con 15 voti favorevoli e due contrarie è stata integrata e modificata la deliberazione consigliare relativa all'accordo di programma tra comune, regione e provincia per la realizzazione del campus per le scuole secondarie di secondo grado. Approvata la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di alloggi da destinare ai terremotati con 12 voti favorevoli e 5 contrari, quelli delle minoranze. Ha approvato il nuovo regolamento di assegnazione dei lotti in zona PIP con 12 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari delle minoranze. Sono stati anche nominati membri del nuovo nucleo di valutazione per l'assegnazione delle aree ricadenti nei piani di insediamento produttivi. Per la maggioranza è stato eletto Francesco Mercorelli mentre per le minoranze è stato nominato Roberto Baldoni. Con 13 voti favorevoli e un astenuto Mercorelli è stata infine concessa alla Società Spettacoli Internazionali la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione dell'edificio in zona PIP. Le Grazie.